Sono pronti e approvati i primi 31 progetti definitivi degli interventi finanziati con i fondi PNRR e prende sempre più forma la progettazione delle case della comunità e degli ospedali di comunità che l'ASL Foggia realizzerà proprio con i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'azienda ha acquisito, sottoposto, averifica e approvato i progetti definitivi, alcuni dei quali riguardano la rifunzionalizzazione di edifici già esistenti, altri invece la realizzazione di strutture ex novo. Tra le strutture di nuova realizzazione c'è l'edificio che ospiterà la Casa della Comunità e l'Ospedale di Comunità in via Protano su un'area di circa 5.000 m2. La struttura, progettata su due piani per un totale di oltre 1.400 m2, risponderà al principio di prossimità dell'assistenza sanitaria territoriale e sarà un nodo importante della rete di offerta dei servizi sanitari e punto di riferimento della comunità locale. L'edificio accoglierà in un'unica struttura molteplici funzioni che andranno dalla cura e assistenza alla prevenzione e promozione di stili di vita salutari, con spazi dedicati alla socializzazione, utili a favorire gli incontri tra professionisti e cittadini. Al piano terra sarà ubicata la Casa della Comunità, che sarà il punto di riferimento per le curie primarie e integrerà al suo interno anche i servizi sociali e professionali. Disposta su oltre 600 m2, accoglierà 12 ambulatori, sale di attesa, il CUP, l'ufficio amministrativo, il punto unico di accesso, gli spogliatoi, i depositi e i locali tecnici. L'ospedale di comunità rappresenta una struttura intermedia tra l'assistenza domiciliare e l'ospedale. Accoglierà pazienti che necessitano di interventi sanitari clinici e soprattutto assistenziali a bassa intensità, ma che non possono essere erogati a domicilio per diversi motivi. Avrà 20 posti letto, un soggiorno d'attesa, la palestra per le riabilitazioni, i depositi, le sale dedicate agli operatori sanitari. La copertura, sviluppata su 700 m2, sarà piana e ospiterà l'impianto per il trattamento dell'aria. È un impianto fotovoltaico per coprire parte del fabbisogno della struttura. Lo spazio esterno sarà attrezzato con percorsi pedonali, aria verde e parcheggio. Inoltre, la struttura prevede un sistema di recupero delle acque povane dalla copertura che saranno usate per ricaricare le cassette di risciacquo dei water per favorire il risparmio idrico.